Si raccusa padre e marito violento allontanato d'urgenza dalla casa familiare. Agente delle volanti sono intervenuti ieri in via delle orchidee a seguito della segnalazione di una lita in famiglia tra padre e figlio. Il padre, un uomo di 52 anni, si è reso responsabile dei reati di violenza nei confronti della moglie e di minacce aggravanti nei confronti della stessa e dei figli minori. L'uomo ha opposto resistenza nei confronti dei polizotti intervenuti, prendendo a calci la volante e per tali motivi è stato denunciato anche per reati di resistenza a pubblico ufficiale danneggiamento ai beni dello Stato. A sua disposizione dell'autorità giudiziaria è stato allontanato d'urgenza dalla casa familiare.